E' un artista vivissimo ancora oggi e soprattutto pensate, lui non voleva cantare, come devo dire Lucio Battisti non voleva cantare, lui con quella voce così affascinante, perché Luigi aveva una voce neck in core, sembrava così neck in core, giusto? Un libro vocale straordinario, eppure credeva di essere solo un autore. Chissà quante canzoni avrebbe voluto scrivere ancora. Andiamo avanti. Il carretto passava e quel uomo gridava in ce l'ho a te. A ventuno del mese i nostri soldi erano già finiti. Io per il mare, mia madre, nel libro devo i suoi vestiti. Il più bello era nero con i fiori non ho ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente i suoi tagli. Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente i suoi tagli. Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente i suoi tagli. Le mie mani, come vedi, non tremano più leone all'anima. Il tuo papà anima c'è l'immenso amore E poi ancora, ancora amore, amore per te Fiumi azzurri e coni due praterie Dove corrono dolcissime le mie manicovie L'universo trova spazio dentro me Ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è Grazie a tutti